Da domani ad Agropoli comincerà la distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Campania tramite una modalità di ritiro dei cittadini. Per ogni nucleo familiare è previsto un kit che comprende due mascherine, dovranno essere ritirate dal capofamiglia e le modalità di ritiro saranno le seguenti. I cognomi dalla A alla G dovranno ritirarle domani 5 maggio, i cognomi dalla H alla P mercoledì 6 maggio, i cognomi della Q alla Z giovedì 7 maggio. Il ritiro avverrà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e la sede dove il capofamiglia dovrà ritirarle sarà definita in base al proprio seggio elettorale e dunque appartenenti ai seggi dall'1 al 6 andranno a ritirare le mascherine presso l'oratorio Santa Maria delle Grazie, gli appartenenti ai seggi dal 7 all'11 potranno prelevare le mascherine presso il palazzetto dello sport di concilio, gli appartenenti invece ai seggi dal 12 al 16 potranno ritirare le mascherine presso la sede della Croce Rossa Viale Lombardia ed infine gli appartenenti ai seggi dal 17 al 21 ritireranno le mascherine presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Agropoli San Marco. Si dovrà portare con sé un documento di identità e ci si potrà delegare per ritirare le mascherine di massimo altri tre nuclei familiari. La Regione Campania si sta operando anche per le mascherine per i bambini visto l'obbligo dai 6 anni in su e la prossima settimana verranno consegnate.